C'è solo un ciclista. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'era solo un ciclista. C'è solo un ciclista. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'era solo un ciclista. C'è solo un ciclista. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'era solo un ciclista. Ci sono molti ciclisti. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano molti ciclisti. Ci sono molti ciclisti. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano molti ciclisti. Ci sono molti ciclisti. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano molti ciclisti. Ci sono molti cappelli. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano molti cappelli. Ci sono molti cappelli. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano molti cappelli. Ci sono molti cappelli. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano molti cappelli. Ci sono solo due cappelli. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano solo due cappelli. Ci sono solo due cappelli. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano solo due cappelli. Ci sono solo due cappelli. Scusami, non ho capito quel che hai detto. Potresti ripeterlo più lentamente? Ho detto che c'erano solo due cappelli. C'è un disegno di gatti. Questa persona ha i baffi e non la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha i baffi e non la barba. Questa persona ha i baffi e non la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha i baffi e non la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha i baffi e non la barba. Questa persona ha la barba e non i baffi. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere. Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha la barba e non i baffi. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere. Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha la barba e non i baffi. Questa persona ha la barba e non i baffi. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere. Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha la barba e non i baffi. Questa persona ha i baffi e la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere. Conosco solo un po' di italiano. Questa persona ha i baffi e la barba. Questa persona ha i baffi e la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' d'italiano. Questa persona ha i baffi e la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' d'italiano. Questa persona ha i baffi e la barba. Questa persona non ha i baffi o la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' d'italiano. Questa persona non ha i baffi o la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' d'italiano. Questa persona non ha i baffi o la barba. Questa persona non ha i baffi o la barba. Potrebbe ripetere quel che ha detto per piacere? Conosco solo un po' d'italiano. Questa persona non ha i baffi o la barba. C'è un disegno di gatti su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta c'è un disegno di gatti. C'è un disegno di gatti su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta c'è un disegno di gatti. C'è un disegno di gatti su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta c'è un disegno di gatti. C'è un disegno di un orso su questa maglia. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglia c'è un disegno di un orso. C'è un disegno di un orso su questa maglia. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglia c'è un disegno di un orso. C'è un disegno di un orso su questa maglia. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglia c'è un disegno di un orso. C'è un disegno di una faccia sorridente su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta c'è un disegno di una faccia sorridente. C'è un disegno di una faccia sorridente su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta c'è un disegno di una faccia sorridente. C'è un disegno di una faccia sorridente su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta c'è un disegno di una faccia sorridente. Non c'è nessun disegno su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta non c'è nessun disegno. Non c'è nessun disegno su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta non c'è nessun disegno. Non c'è nessun disegno su questa maglietta. Sto imparando a parlare italiano. Potresti ripetere quel che hai detto lentamente? Ho detto che su questa maglietta non c'è nessun disegno. Quanti fiori ci sono? So la risposta alla sua domanda. C'è un fiore. Quanti fiori ci sono? So la risposta alla sua domanda. C'è un fiore. Quanti fiori ci sono? So la risposta alla sua domanda. C'è un fiore. Quanti palloncini ci sono nel cielo? So la risposta alla sua domanda. Ci sono tre palloncini nel cielo. Quanti palloncini ci sono nel cielo? So la risposta alla sua domanda. Ci sono tre palloncini nel cielo. Quanti palloncini ci sono nel cielo? So la risposta alla sua domanda. Ci sono tre palloncini nel cielo. Quanti palloncini ci sono nel cielo? Quanti fiori ci sono? Quante biciclette c'erano? C'è solo una bicicletta. Quanti cappelli ci sono? Cosa ha detto? Gli ho chiesto quanti cappelli c'erano? Ci sono molti, molti cappelli. Quanti cappelli ci sono? Cosa ha detto? Gli ho chiesto quanti cappelli c'erano? Ci sono molti, molti cappelli. Quanti cappelli ci sono? Cosa ha detto? Gli ho chiesto quanti cappelli c'erano? Ci sono molti, molti cappelli. Quanti cappelli ci sono? Cosa ha detto? Gli ho chiesto quanti cappelli c'erano? Ci sono due cappelli. Gli ho chiesto quanti cappelli c'erano? Ci sono due cappelli. Quanti cappelli ci sono? Cosa ha detto? Le ho chiesto quanti cappelli c'erano. Ci sono due cappelli. Quante biciclette ci sono? Cosa ha detto? Le ho chiesto quante biciclette c'erano. Ci sono parecchie biciclette. Quante biciclette ci sono? Cosa ha detto? Le ho chiesto quante biciclette c'erano. Ci sono parecchie biciclette. Quante biciclette ci sono? Cosa ha detto? Le ho chiesto quante biciclette c'erano. Ci sono parecchie biciclette.